I 4.500 appartamenti del progetto case realizzati dalla protezione civile all'Aquila all'indomani del terremoto per dare ospitalità a circa 20.000 sfollati sono costati più del doppio di quello che dovevano costare. E dunque l'intervento è inutilmente bruciato, oltre 300 milioni di euro che potevano essere utilizzati su altri fronti dell'emergenza sismica e della ricostruzione. A dirlo non è un comitato cittadino un'inchiesta giornalistica datata a 2009. Lo dice la Corte dei Conti Europei in un dossier volto a far chiarezza sull'utilizzo dei fondi sociali europei destinati all'Aquila e usati appunto in buona parte per realizzare il progetto case. Si legge nella relazione. Il costo relativo a un singolo appartamento è stato di 1.648 euro al metro quadrato di area abitabile contro un costo standard stabilito dal manuale di riferimento per le edilizie a fini sociali pari a 640 euro al metro quadrato. A fargli evitare i costi si spiega nel dossier le procedure di gara per lavori aggiuntivi affidati a trattativa privata. E non solo si sono secondo il dossier sprecati i soldi. Sarà molto problematico gestire un patrimonio pubblico di tale portata che comporterà per il comune, diventato intanto proprietario del progetto case, costi di gestione e manutenzione di quasi 4,5 milioni di euro l'anno, che un comune come l'Aquila difficilmente può reperire in bilancio e che imporrebbe di chiedere affitti spropositati a chi ci abita. La relazione della Corte dei Conti, va però aggiunto, viene contestata dalla Commissione Europea Politiche Regionali. Pensiamo che le critiche della Corte dei Conti siano infondate, afferma la portavoce Jonas Hahn, perché riflettono un'insufficiente valutazione delle sfide sul campo e aspettative irrealistiche riguardo all'autorità italiana a fronte di un disastro rilevante contro 109 morti, oltre 1.500 ferite e circa 70.000 persone che necessitavano di riparo e assistenza con massima urgenza.